allora facevamo vedere prima ragazzi questa notizia assalto all'autaro sembra a quanto si è capito seba che per il real si è assaltato un obiettivo spiegacelo un attimo e si siano andati sull'autaro allora più che altro si real marid come dicevamo ampere sta cercando sta cercando un attaccante io sono anche d'accordo un po con manuela quando dice che l'autaro non è proprio una prima punta nel senso che anche io al posto di benzemà vedrei più una punta o diciamo un vero nove più che più che l'autaro fatto stare favore attenete via a fare cronaca non siedono fate gli allenatori per favore questo sicuramente no è chiaro che il real marito in questo momento si sta informando su più fronti non solo sull'autaro martinez ma sicuramente è stato contattato anche con lo più probabile che martinez perché un giocatore che interessa è un giocatore che in questo momento tra i top tra i top europei real ha chiesto informazioni trattativa ancora non non avviata però scusami seba scusami allora facciamo tutti insieme io sono una squadra che ha soldi infiniti che non ho sbagliato porca miseria mamma mia mamma mia adesso faccio così guarda solo emotico così mettete niente però andrea come si meravigliano di questo errore allora facciamo una cosa prima ho detto budapest anziché istanbul mi sembra veramente comunque facciamo insieme i cinque attaccanti che si possono comprare quindi togliamo holland quelli che si possono comprare su cui andrebbe qualsiasi squadra adesso c'è parte che erano basso bapé in bapé poi questi sono come si chiama quello del milan origi giro giro il più grande attaccante ho visto che hai fatto vecchio però secondo me l'auto io mi ricordo quando è venuta meritocrazia blanca il nome che gli abbiamo chiesto chi vorrebbero prendere in italia non all'inter è stato barella no quindi vuol dire che è un profilo già alto l'autaro non è mai stato detto da parte loro ma infatti a me secondo me secondo me è un'altra real madrid e segnatevelo dice vi apri ha detto viaggio grande ma anche secondo me secondo me l'autaro risputa si riguarda l'autaro rimane all'inter ama l'inter rimane l'inter sarà il nuovo zanetti approcciato almeno avrete una bandiera forte tecnicamente dopo dopo cento anni comunque ma quanto si sta parlando a livello economico per capire se va no non si ancora sono ancora fa allora a livello che ma ipotizzare noi delle cifre sì livello economico non si è ancora mai parlato tra le due tre due club questo assolutamente 130 milioni ma io credo che l'inter si non non lo c'è da meno di centriamo vediamo per transfer mart quanto vale a te mano tu mano a quanto lo vorresti 130 milioni per l'autaro no no io a 130 milioni mi siede e t'ascolto forse vi apri allora secondo transfer mart l'autaro vale 85 milioni in questo momento sì ma non lo so io non so dove provenga questa notizia non voglio metterla in dubbio però qualora fosse effettivamente così io veramente allora il primo a riportarle salvatare fammi vedere il trauma di manuelina guarda ti chiedi mangiare manfredi mi ha scritto sta roba io ho letto il messaggio dieci volte no perché non riesco a capacitarmi poi dopo questa stagione ma eri in doccia e da lì non ti sei non hai più fatto niente non ho neanche mangiato per colpa di manfredi non lo deve fare più io io sai ti voglio io continuo a dire che esiste mondo deportivo mondo deportivo è la notizia ragazzi non so se tanto qualcosa di affidabile per un per una sessione servono tre cose sempre uno che la squadra che compra si è interessata due che la squadra che deve vendere si è interessata e tre che il giocatore voglia andare la prima notizia secondo me è vera cioè che il real madridi possa essere interessato a un campione come l'autaro mi sembra assolutamente normale sono le altre due condizioni che secondo me non li aiutano l'inter non vuole vendere l'autaro l'autaro dici viaggio aspetta 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 che è successo mi sono staccato le cuffie raga ma è vero questa cosa qua è vero seba ma allora no perché se lì si è dimesso grosso giusto non è un fisale grosso non mi fate prendere dei colpi ragazzi vabbè andiamo vedremo 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 di francesco torna per essere retrocesso se 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 poi tu quando vedrai il calcio più bello d'italia poi ne parleremo anche dite sempre così di francesco ma va bene è diventato un fa tudor ha preso il lavoro di di francesco è diventato un fenomeno potrebbe essere stato l'anno sbagliato dai difra quella mia con l'autaro comunque biaggio stava facendo la valutazione non ho sto dicendo che ci sono tre condizioni per vedere un giocatore uno deve voler comprare l'altro deve voler vendere e il giocatore deve voler andare che real madrid sia interessato è molto probabile l'autaro è un campione del mondo ha fatto molto bene all'inter che lo vogliono mi sembra normale non penso che le altre due condizioni l'inter penso che l'autaro sia nella lista ristrettissima degli incedibili e l'autaro da quel che personalmente io ho capito sta molto bene a milano è molto legato all'inter sarei molto sorpreso anche se nella vita mai dire mai ma sarei molto sorpreso se decidesse di lasciare andare a madrid invece io penso che l'inter non abbia incedibili cioè penso che veramente quando arrivasse un'offerta da farti girare la testa per chiunque compreso l'autaro l'inter lo secondo me lo fa e per quanto riguarda l'autaro ma questa cosa come dice anche augusto che diceva mano poi ti faccio finire mano si è vista con scrigna no però è un po diverso è diverso l'attaccamento che mostra l'autaro da quello di scrigna adesso sembra facile dirlo è vero che l'autaro però l'autaro non ha mai negato anche quando c'era il barcellona cioè lui non ha mai detto rimarrò tutta la mia carriera all'inter se dovesse arrivare real ragazzi secondo me l'autaro più che ci pensa non ci va allora io dico ma io fosse interista più che altro in questo momento a livello di gestione o mi preoccuperei molto più di di barella questo perché perché l'inter è chiaro che ormai l'inter non sta cercando in questo momento attaccanti non li sta cercando è chiaro che poi nessun giocatore incredibile ma si parlava di retegui in realtà seba che potrebbe essere proprio il sostituto di l'autaro sì ma mentre che c'è l'interesse l'inter per frattesi per milico vista sta cercando proprio di intavolare proprio comunque io vi dico una roba a 100 a 130 quello che diceva ma non è che mi siedo glielo porto se fossi nell'inter la guarda che poi non li vendi più i giocatori ma già secondo me a 120 ma io dubito che nessuno club in serie a è pronto a non sedersi diciamo per meno di 100 per qualsiasi giocatore attualmente che c'è in serie a perché comunque ormai il calcio non è più quello di di una volta i giocatori non sono più incedibili la juventus di prima non c'è più la juventus che si poteva permettere di fare certe cose quindi attualmente in serie a non c'è nessuna squadra che ha degli incedibili fatto sta che l'inter in questo momento e si è visto anche durante durante la serata dell'altro ieri sera quando l'inter è andata a cena per parlare con frattesi allora lì si capisce che l'inter sta cercando un nuovo centrocampista e prenderlo da una squadra un po più piccola simile a come diciamo simile a come come stata trattativa che ha portato poi a prendere barella quindi che l'inter voglia un centrocampista lo sta cercando e ha già quasi raggiunto l'accordo col sassuolo che cosa è successo che poi zanga ha detto ovviamente bisogna prima cedere qualcuno cedere qualcuno io credo che la cessione il sacrificio dell'inter per quest'anno avverrà al centrocampo poi per lautaro è chiaro qualora arrivasse a parte da più di 100 milioni ci si siede ma quindi seba stai dicendo che è molto probabile che barella vada via però posso fare una domanda sema c'è cedere un centrocampista scusa manu un secondo prego manu prendere un centrocampista eccetera un centrocampista cioè non ha nel senso posso capire se ti serve il centrocampo va bene ma se comunque lasciati poi devi prenderne due no no ma nel frattempo lo scopo è guadagnarci anche nel senso che sostituire magari faccio un esempio barella venduto a 70 milioni 70 80 milioni ma anche di più e prendere un frattesi a 25 porterebbe sicuramente all'inter molto ricavo economico poi poter prendere un altro centrocampista magari al di sotto dei 20 milioni così l'inter avrebbe due centrocampisti un frattesi che ovviamente non è a livello di barella ma neanche barella quando è arrivato sull'ingaggio ci risparmia comunque dicono che barella è stato smentito da tutti prime pagine che non si vende praticamente no no l'ha detto sarno non l'ho detto io vabbè tu lo dici da due giorni ieri sera augusto sciscione e enerix lo stavano vendendo qua a 50 milioni no ma va dato barella ma che ne chiedeva 500 per milinkovic avvic fino a ieri questo posso portare prego 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 perché ho lavorato durante questi periodi perché il fatto che l'inter sia su milinkovic e savic comunque mi ha portato a lavorare anche per l'inter per questa situazione legata all'inter cosa l'ho scoperto mi sembra serio il posi no sono serio e ho scoperto che attraverso l'entourage del tecnico dell'inter quindi credo che sia abbastanza informato sulla vicenda e che l'inter si sta facendo le sue mosse per milinkovic però mi hanno detto è chiaro che se il lotito spara alto bisogna vedere poi a ulteriore domanda mi hanno detto che comunque loro in questo mercato opereranno comunque una gestione importante per finanziarsi le operazioni in entrata quindi diciamo l'inter non farà operazioni in entrata di maggiori con spendita di soldi per cartellino maggiori a quelle che saranno le cessioni questo è quello che mi hanno riferito ma quindi c'è ok in parole povere cos'è che vogliono andare su milinkovic o no è vero no su milinkovic ci sono assolutamente ha detto che è un obiettivo ma non è solo milinkovic l'obiettivo della lazio c'è anche un altro dell'intero della lazio non ho capito l'inter e la lagazio milinkovic scusami anche maruzic c'è esatto c'è un altro obiettivo che maruzic in cui partisse nel caso in cui partiste dunfries e tu ridi e poi ridete raga per noi è un incubo tutto ciò voi ridete anche voi che ridete no rido perché maruzic mi sembra un giocatore non da inter sinceramente sì però quello che che è la notizia è che l'inter non spenderà soldi per i cartellini dei giocatori più di quelli che incasserà cioè quindi farà un mercato inattivo quindi deve vendere per forza qualcuno se vuoi comprare milinkovic o frattesi o chi per io ragazzi per questo che cosa vi dicevo vi dicevo che secondo me il più il probabile partente il probabile sacrificio dell'inter sarà barella anche per una questione di logica nel senso che in questo momento l'inter se prendiamo gli attaccanti l'inter in questo momento all'autaro correa e gioco che comunque sta diciamo arriva in un'età avanzata un l'aukaku che non si sa cosa farà se tornerà oppure no l'aukaku e invece l'autaro è l'unico punto fisso che secondo me l'inter in questo momento non vorrà accedere chi cederà accederà secondo me sicuramente un centrocampista perché sta trattando in questo momento con frattesi con milinkovic stavici quindi un centrocampista lo vuole per prendere un centrocampista di questa portata secondo me sacrificherà un uno dei big titolari e sarebbe la scienza più sensata viaggio molto senzata è che brodovic non credo che possa valere quanto milinkovic a oggi e milinkovic in a 27 26 28 quindi di 9 a 94 insomma però guadagna tanto brodovic e libererebbe un cartello che da milinkovic minimo 6 5 e mezzo 6 allora allora occhio non è finita qua perché sirene inglesi anche il manchester united su onana questo credo che sia il classico ma infatti secondo me la scelta migliore per l'inter se devi viene è questo devi vendere una vendere subito conviene vendere subito questo subito proprio cioè io se fossi in voi piuttosto che perdere barella lautaro compagnia contante brodovic come dice no no dico sembrerebbe che in zaghi si sia opposto alla cessione di di una perché ritiene fondamentale per il suo gioco per il fatto che comunque con i piedi ci sa fare perché conosce bene l'inter è inserito i meccanismi e sa come gioca c'è paura che ridanno andano vicino la rispetta andano vince siscio rispetto andano però inoltre onana onana miaggia non si sentivo la quadra infatti lo dicevamo anche noi l'altra sera c'è secondo me è più uomo squadra adesso onana c'è insieme a vendere subito vendere subito non arriverà mai più un'estate che un'ana vale 60 milioni vendere subito ma non è chiaro è il picco più alto della sua carriera questa o lo vendi adesso non lo vendi mai più ma infatti lo vuole guardiola ma secondo me lo puoi vendere di più di 60 quest'anno madonna chi cazzo gli asci ma ragazzi ma un portiere 60 cioè io credo che adesso pure si va a comprare che ne so allison courtois questi non costano così tanto il portiere è vero che sono pochi però comunque tutti sti soldi che pa 90 milioni allison ha pagato 70 ma non c'è neanche se alison vale 70 un'ana vale 7 non c'è neanche paragone secondo me un'ana ragazzi lo lo descrivete siete siamo abituati a pensare che il portiere dell'inter sia sfigato venendo da andanovic e partite prevenuti con un'ana che secondo me è un ottimo portiere un'ana ha fatto otto clean sheet in champion che mai nella storia dell'inter era stata fatta tra l'altro una avrà avuto quello che volete otto clean sheet in champion infatti ribadisco c'è un molo devi vendere cioè questo è l'anno del miracolo questo poi non mi ricordo più soldi da lui e quest'anno concordo con te